Ma Sensi all'Inter, te l'aspettavi questo salto? Perché è comunque un salto importantissimo. Conte punta su Sensi, qualcuno ha paragonato Sensi di oggi al Verratti dell'altro ieri. C'è qualcosa oppure no? Ma sai, Sensi quando ha iniziato ad essere convocato in nazionale e ha giocato con quella personalità e con quella qualità deve anche essere riconoscente a Mancini perché il gioco di Mancini si sposa con le qualità di Sensi. Quindi probabilmente ha dimostrato ancora di più, qualora ce ne fosse stato bisogno, che poteva essere a livello di una squadra importante come l'Inter. Aggiungo soltanto, sono d'accordo con te, aggiungo soltanto che poi le priste stagniere non è che riscaldino particolarmente i cardi. Il discorso Juve-Napoli è molto semplice. Chi sistema prima qualcuno di importante da sistemare, non saranno tempi brevi, perché poi parleremo anche di Guain, avrà la possibilità di andare a stringere il discorso per i cardi quando i cardi e l'Inter si troveranno per fare un altro tra i mille punti della situazione che hanno fatto negli ultimi mesi. Per cui, il Guain è un discorso che approfondiremo. Il Napoli non ha insigne intoccabile, può cedere facendo cassa Verdi, può cedere facendo cassa Rocco, può cedere facendo cassa Unasse. Ma noi abbiamo sempre detto che questa è una storia che ci trascineremo per un po', fermo restando il gradimento di tutte e due le società. Questo è l'attacco di Conte che sarebbe in questo momento davvero molto interessante, anche se i cardi lo vorrebbe fuori dalla grafica. Se vedete il televisore, prendete i cardi e spostatelo verso destra, perché Conte non lo vuole neanche vedere in fotografia. Ma Lucaco costa? Si tiene l'Altaro, com'è? Lucaco costa, però. Costa, capito? Cioè ragazzi, 80 milioni voglio. Capito? Ma su di nessuno, ragazzi, adesso possiamo fare il mercato. Dzeko risparmi qualcosa, l'Altaro Martinez ce l'hai e poi devi prendere un quarto dietro. Però il centrocampo devi sistemarlo, non va bene come è il centrocampo adesso dell'Inter, qualche nome lo devi prendere, c'è l'affare a Nainggolan, bisogna capire cosa succede a Nainggolan. Cioè non è proprio così. Io sono a Nainggolan e volevo... Scusami, non volevo anticipare, per l'amor di tutto. Vai, vai. Dacci le notizie, era l'opinione della Marchetti, tu ci dai le notizie, vai. No, eravamo sul Milan e abbiamo visto l'Inter, partiamo dal Milan e noi partiamo dall'Inter. Fai tutto una madonnina, dai. Sotto la madonnina vale tutto. Io faccio tutto una madonnina. Allora, per quanto riguarda l'Inter, io adesso non voglio contraddire i colleghi che hanno scritto di Vidal, perché a me non risulta una cosa calda, una trattativa in corso per Vidal. A parte il discorso Barella, ho cercato di verificare questa storia di Vidal, che ricordiamolo è stato a un passo dall'Inter lo scorso giugno, poi l'Inter ha deciso di virare su un esterno offensivo come Keita. Quello che mi risulta è che un mese fa, proprio un mese fa, Barcellona e Inter hanno parlato di uno scambio Nainggolan-Vidal. E la cosa è morta sul nascere, per due motivi. Il primo e più importante del secondo, che neanche cito, che in questo momento Nainggolan non vuole prendere in considerazione né la Cina né altre situazioni. Quindi di Nainggolan e Vidal hanno parlato in tempi non sospetti come timido approccio scambio che è naufragato un mese fa. Ciao!